Ciao popolo di Twitch! Buonasera a tutti quanti ragazzi, ben ritrovati a questo nostro nuovissimo appuntamento settimanale. Tra l'altro mi è piaciuto il mercoledì, quindi il mercoledì lo manteniamo, ci piace. Non so se avete visto che ho finalmente messo una piccola, piccolissima, schedule sul canale che per ora è mercoledì e domenica. Io sto pensando anche a un giovedì, sarò sincera, però, che sarebbe il giorno dedicato al gioco per ora, ma devo ancora settare un po' di cosine per giocare sul computer, quindi datemi tempo. Magari domani a sorpresa arriva qualcosa, ma datemi tempo, datemi tempo. Allora, ciao a tutti quanti, tra l'altro ciao a Superman, che è stato il primo, ciao a Trigger, che tra l'altro è qui solo per vedere Parsi. Parsi fino a poco fa era alle mie spalle, questo buio qui è molto inquietante, sembra che debba uscire una mano da un momento all'altro. Questo lo sfruttiamo per la giornata del mercoledì, quando affronteremo il tema horror. Ciao Xistence, ciao Zeta, ciao Mike, Piero è la regia, dice che Parsi sta ozziando sul divano, molto bene, beata Parsi, che ha dormito tutto il giorno. Se mi seguite su Instagram, Parsi si risveglia tra mezz'ora e romperà le palle a me e alla regia, quando noi in realtà vorremmo solo morire sul divano. Poi, vediamo un attimo, vediamo... Ciao Haytin, ciao Dafty, ciao Paolino, che fa tra l'altro una domanda scomodissima. Come mai questa domanda sul fai palestra o fai sport? Non si vede che sono così atletica e così tonica, dovrei fare palestra in realtà. Faccio la beneficenza alla mia palestra, questa è la grande realtà. Poi, ciao Rotator, ciao Trin, Trigger dice chi vive meglio di lui, infatti sì, infatti nella mia prossima vita voglio rinascere assolutamente, assolutamente gatto. Perché siamo qui oggi, abbiamo detto che il mercoledì è giornata Focus Cinema, quindi ci concentriamo su un unico argomento a tema cinematografico. Visto che ne avevamo tanto parlato, è in effetti cade quasi a fagiolo, perché con l'arrivo del Pokémon Day, che sarà praticamente domani, oggi c'è stato pure il direct sull'annuncio. Ieri hanno fatto vedere il nuovissimo, nuovissimo trailer di Detective Pikachu, che ci ha mostrato un sacco di nuovi easter egg, un sacco di nuove immagini. Quindi oggi si parla dell'evection e ci chiediamo la domanda, oggi apro con la domanda fondamentale e cerchiamo di rispondere chiudendo poi in chiusura. Abbiamo davvero bisogno dell'evection? C'è proprio questa immensa, impellente necessità dell'evection? Sì, no, forse? Dipende dai casi. Dipende dai casi e adesso insieme analizziamo quali sono i casi, tra l'altro li analizziamo insieme e in particolar modo ci concentriamo, secondo me, perché appunto dipende dall'evection e dall'evection. E ci concentriamo in particolar modo sulla Disney, perché secondo me la Disney è l'elemento più emblematico che si chiude, che è dietro praticamente l'evection. Allora, tra l'altro, vediamo qualcun altro, Mattia, ciao Mattia, grazie Paolino per il complimento. Poi Eti mi dice, ma insomma ce lo dici dove sei? Ma ve l'ho detto, ve l'ho detto tra l'altro, sono metà pugliese e metà campana, sono super meridionale ragazzi, però ho vissuto per tanti anni a Roma, per sette anni e adesso vivo a Milano. Bella con gli occhiali, sembri più perfettina, tra l'altro, secondo me, si vede il velo di sporco che c'è sugli occhiali, se faccio così. Sono ciecata, sono ciecatissima, cioè vi rendete conto? Io non leggo bene i vostri messaggi da così. Va bene, ok, Dafty dice, Disney no, Pokémon sì. Questa risposta non è male. OZ infatti dice, risposta sì, tra parentesi, tranne quelli di Disney. E Mike dice, io direi dipende. Ok, vedo che però siamo tutti comunque bene o male sulla stessa lunghezza d'onda, quindi sul fatto che dipende dall'evaction all'evaction. Prima di tutto si fa un po' di confusione. Secondo me facciamo un lavoro a fine vedendo i cartelli iniziali e finali delle live. Allora, vi stavo dicendo, secondo me dipende appunto da cosa si intende per l'evaction. Perché l'evaction, in effetti, il termine proprio l'evaction, nasce come, visto che uno non dovrebbe specificarlo, ma l'evaction nasce appunto insieme alla parola adattamento, ovvero tutte quelle cose che, generalmente, nate da un fumetto, un videogioco, un cartone animato, che appunto avevano un loro poi adattamento in live action, oppure quando si faceva una commissione di genere. Mi viene in mente Roger Rabbit, oppure per esempio Space Jam, no? Film di questo genere, dove appunto c'era sia l'animazione e anche il carne d'ossa, che poi live action non vuol dire altro che carne d'ossa, solo che magari pare male dire carne d'ossa, invece live action, visto che ci piace fare un po' i british oppure gli americani di turno, anche se non sappiamo parlare l'inglese, ci piace molto di più il termine live action, insomma, è un pochino più comprensivo. Il vero problema nasce, nasce negli anni, in realtà, ormai nel secondo decennio degli anni 2000, quindi nel 2010, quando il live action diventa la risposta a una tipologia di animazione che a quanto pare non faceva più gola, ovvero il live action della Disney appunto nasce dall'esigenza di svecchiare qualcosa di storico, che ha fatto il suo, però in chiave nuova, appunto per attirare, per far crescere un po' più di hype nelle persone, cambiare qualcosa, perché succede, parlando appunto di Disney, succede che Disney nel 2009, quando ha fatto la principessa Erranocchio, si è trovata di fronte a un, tra l'altro a me non era manco dispiaciuto la principessa Erranocchio, sarò sincera, probabilmente non è uno dei più famosi della Disney, si era trovata di fronte a un enorme problema, ovvero un enorme flop. La principessa Erranocchio nel 2009 fu un flop terrificante, e i dirigenti Disney, allarmatissimi, iniziano a dire Houston, abbiamo un problema, le fiabe non piacciono più a nessuno, la favola ormai fa cagare, non piace più a nessuno, dobbiamo trovare una soluzione, dobbiamo fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, cosa facciamo, cosa non facciamo, intanto però in cantiere c'erano già tanti tanti progetti, tra cui per esempio Raperonzolo e lo stesso Alice in Wonderland di Tim Burton, che sono usciti appunto nel 2010, quindi sì, ok, la fiabe è morta, però noi abbiamo in cantiere talmente tanta di quella roba, che almeno un altro anno, altri due anni, dobbiamo necessariamente tirare avanti. Tra l'altro poi leggo tutti i vostri commenti, non vi preoccupate, dobbiamo per forza tirare avanti, quindi famo sta roba, e poi capiamo insomma quello che dobbiamo fare, come possiamo risolvere la situazione. Cosa succede? Che nel 2010, quando esce Raperonzolo, esce anche Alice in Wonderland, sono tutte e due degli enormi successi. Com'è possibile questo? Si chiedono. Quindi non è la fiaba che non piace più, è il modo in cui si rappresenta la fiaba, perché Raperonzolo comunque ha un'animazione praticamente in CGI. Stessa cosa per Alice in Wonderland, che è praticamente girato per tre quarti in green screen, che poi piace o non piace Alice in Wonderland, sinceramente io lo trovo un film terrificante, ma il pubblico è impazzito per Alice in Wonderland. Quindi cosa succede? Che i dirigenti Disney si rimangiano tutto quello che hanno detto, ma capiscono che il problema non è il format, è come vendi il format. Ed è stato pure Tim Burton, mortacci di Tim Burton, a dare questa immensa illuminazione alla Disney, tra l'altro lo sapete, amore della mia vita a Tim Burton, però Zio Tim, la prossima volta ti potevi fare pure un pacchetto di cazzi tua, per esempio, no? Così, giusto, pur parler, pur per dire. Perché Alice in Wonderland è stato un successo talmente tanto grande, con una favola, una favola molto amata e anche vecchia, quindi cosa viene in mente a questi enormi geni? Riadiattiamo tutto il nostro catalogo, riprendiamo tutte le nostre favole, tutte le nostre fiabe, e le facciamo in live action. Le facciamo con una nuova, praticamente gli cambiamo la faccia e le rendiamo molto più appetibili per un pubblico che a quanto pare non ama più quel tipo di animazione che poi, come era appunto la vera Belle e la Bestia, il vero Alice nel Paese delle Meraviglie, il Re Leone, cose di questo genere, ma vuole qualcosa di più... di più finto, chiamiamolo così, no? Di diverso, senza dire finto, insomma, perché poi la CGI è anche bella in alcuni film, non bisogna demonizzare niente, così come non vogliamo demonizzare live action, cerchiamo di non farlo nemmeno con la CGI. Questo però ha portato la Disney, quindi, a trovare questa formula che obiettivamente per loro è perfetta, e quindi in questi anni loro hanno iniziato, partendo da quella che era un'insicurezza stilistica, perché appunto, come ho detto, non era il format il problema, quindi il problema non era le fiabbe non piacciono più, anche perché poi nel 2013, tra l'altro, arriva Frozen, che è uno dei film che a qualcuno non è piaciuto, ma è stato uno dei successi più enormi della Disney, tra l'altro, lì la Disney, e lì ci affacciamo anche un altro argomento che si chiama creatività, tra l'altro lì la Disney ci mette di fronte a uno dei suoi classici, perché tecnicamente Frozen ha la struttura di un classico, però con delle dinamiche totalmente diverse, cioè la principessa in questione, non solo non gliene può fottere di meno del principe azzurro, ma proprio zero, è totalmente indipendente, non ha bisogno assolutamente di nessuno, e cambiano totalmente, e il principe azzurro in questione è pure un pezzo di merda, perché è pure finto e insomma ha i suoi loschi piani, quindi non è nemmeno un problema di creatività, perché spesso e volentieri si dice eh, facciamo i live action, facciamo i remake, facciamo i sequel, perché non abbiamo, non c'è più creatività, la creatività è morta, non abbiamo più idee, non abbiamo più fantasia, non è vero, perché appunto un film come Frozen lo dimostra, oppure anche più recente, un film come Zootropolis, che Zootropolis, comunque un classico Disney, uscito nel 2015, dimostra pure lui assolutamente, che la creatività in qualche modo c'è ancora, ci sono ancora le idee, il vero problema è che la creatività non paga, perché appunto i live action e le Disney, questi riadattamenti, non fanno altro che hanno trovato la chiave perfetta, quindi per usare le stesse storie, mettendole sotto un punto di vista, sotto una struttura stilistica, totalmente differente, che piace ragazzi, noi le critichiamo tantissimo, e tra l'altro ci sentiamo anche colti nel vivo, perché per carità non è che l'ave action del Re Leone va a rovinare il film d'animazione del Re Leone, però in qualche modo ci sentiamo un po' stuprati della nostra infanzia, lo so, è una bruttissima parola quella che ho appena usato, però è un po' così, no? perché c'è davvero bisogno che tu mi riprendi, cioè addirittura abbiamo quest'enorme necessità di riprendere una delle favole, qua chiudo che, una delle favole più belle, una delle storie, tra l'altro Re Leone, ragazzi, Re Leone è letteralmente un dramma shakespeariano, è Amleto, senza sé, senza mai, Re Leone è Amleto, quindi pure una storia bellissima, incredibile, e abbiamo davvero così tanto il bisogno di trasformarla, riadattarla, facendone poi una mera copia carbone che per carità tutti noi abbiamo visto il teaser del Re Leone, sfido chi di voi non ha avuto un leggero brivido perché comunque trasudava epicità, poi però ti fermi a riflettere e dici ma perché? Ma scusami, se io devo sentirmi così emozionato, se devo sentire la pelle d'oca sulle braccia, ma perché mi devo andare a vedere il Re Leone e l'ave action? Tra l'altro, quindi il Re Leone è interamente in CGI, quando un classico d'animazione meraviglioso, tra l'altro ha la mega vanguardia con i tempi perché è un film di inizio anni 90 con un'animazione assurda, pazzesca, il lavoro che c'è sopra quel Re Leone per non parlare proprio del lavoro di regia, il reparto tecnico, la colonna sonora del Re Leone, per esempio la colonna sonora, no? Sarà la stessa? Quindi sarà identica? Sono operazioni che portano un sacco di soldi ma che poi alla fine lasciano un sacco il tempo che trovano. Perché? Che bisogno c'è? Vediamo se leggo qualcosa mi date anche qualche altro spuntino nel frattempo c'ho un po' di robetta mi sono segnata qualcosa insomma. Allora OZ dice il problema della Disney che stanno facendo una bella minessa scaldata. Esatto però per la Disney non è un problema anzi la Disney ha trovato la sua gallina dalle uova d'oro perché pensateci anche solo un attimo ma anche solo un attimino veramente no? Loro guadagnano un sacco facendo cosa? Prendendo sceneggiature già esistenti quindi loro hanno praticamente un non lo so una miniera di almeno quanti sono i classici Disney? Sono più di 50 una miniera enorme di classici Disney che devono semplicemente ovviamente in virgolette riadattare ma in fondo il pubblico vuole questo perché? Perché? Noi adesso magari molti sono comunque in d'accordo con me però tanti altri cioè li vanno a vedere i film e la chiave del successo di questi film è proprio il botteghino quindi le persone che vanno e pagano cioè lamentarsi per dire su Facebook che lo facciamo tutti io in primis ha poco senso cioè alla Disney gliene può fregare il giusto per non dire nulla giustamente se la bella è la bestia obiettivamente è un adattamento terribile ma poi ti fa i trilioni ma io vado avanti ma sti cazzi se la critica me l'ha distrutto la critica me l'avrà pure distrutto io mi sono portata a casa un miliardo un miliardo ora si fa per dire cioè sto sparando cifre comunque stiamo parlando di cifre enormi io il mio l'ho fatto di gran cazzi continuo per questa strada evidentemente è la strada giusta non sarà mica l'opinione di Tizio Caglio o la recensione di Sempronio a farmi cambiare idea non è assolutamente questo che mi farà cambiare idea giusto cioè vi trovate col ragionamento non è stupida in fondo la Disney anche perché la Disney comunque gli esperimenti e li ha fatti andando anche quasi in bancarotta perché nel 1994 dopo che la Disney aveva cacciato fuori capolavori come La Bella e la Bess o Il Re Leone ha iniziato a puntare sui sequel faceva dei sequel a bassissima qualità tra l'altro quindi faceva sperimenti su esperimenti esperimenti su esperimenti e stava andando letteralmente in bancarotta sapete in quel periodo chi è che parava il culo alla Disney la Pixar cioè se non fosse stato per la Pixar la Disney in quegli anni sarebbe fallita e non sto scherzando perché oggi mi sono studiata un po' di cose la Disney sarebbe fallita quindi lì è disposta giusto cioè fino a quando le action vanno bene fino a quando io non mi ritrovo proprio come il Titanic sulla punto ormai con la nave del tutto quasi affondata io continuo per questa strada che obiettivamente per ora è la strada più giusta allora Mike tra l'altro mi dice le action Disney avrebbero ragione di esistere soltanto per rilanciare i vecchi classici passati inosservati come per esempio Taron e la pentola magica o Atlantis che fin qua può avere anche senso quello che dici Mike però a questo punto è una versione restaurata quanto è bella allora non sono impazzita per il ritorno di Mary Poppins per il sequel appunto di Mary Poppins che arrivava dopo quanti anni 30 anni tipo 40 vabbè no era degli anni 50 quindi no molti più anni vabbè comunque se c'è una cosa bellissima però che mi è piaciuta del ritorno di Mary Poppins è appunto l'animazione perché proprio l'animazione vecchio stile che manca tantissimo quanto era bello quel tipo di animazione e quindi quanto in realtà magari avrebbe anche senso restaurare il classico e poi cioè se proprio vuoi fare un'operazione di riscoperta o rilancio per me il restauro ha molto più senso ma per me ha molto più senso perché appunto magari vivo la cosa con l'occhio di un nostalgico e sinceramente se fossi madre per esempio mio fratello più piccolo che ha quasi 5 anni lo vizio comprandogli pacchettoni e pacchettoni di Blu-ray classici Disney però mi rendo conto cioè lo noto da sola che magari La Bella e la Bestia lo guarda pure incuriosito poi però esce pazzo giustamente per Cars perché c'è un tipo di animazione totalmente diversa quindi evidentemente loro non solo hanno trovato la chiave quindi per svecchiare il vecchio e dargli una parvenza di nuovo al tempo stesso è anche uno strumento stilistico che interessa molto di più un target molto molto giovane sul quale evidentemente non fa più così tanto effetto l'animazione con la quale siamo cresciuti posso capire che un bambino guardando il vecchio Dumbo veda dei disegni dei colori talmente tanto sbiaditi un'animazione talmente tanto quasi atipica diciamo per quello a cui è abituato in cui ci credo che preferisce andare a vedere il Dumbo il live action di Tim Burton che uscirà tra l'altro tra pochissimo tra un mese tra un mese esatto in sostanza allora io pensavo che per l'aveccio si intendesse un misto trattori umani e computer grafica no non per forza non deve esserci la computer grafica in realtà ormai fa parte della vita di tutti i giorni quindi è ovvio che nell'aveccio per riuscire a realizzare determinati tipi di opere ormai è inevitabile usare la computer grafica cioè che ormai sono anche semplici sono gli effetti speciali nel caso per esempio di Prison Persia parlando appunto di live action di Disney che di Disney ah stiamo stiamo bafferando stiamo facendo un po' di ah no è strano però questa dice che mi sta andando tutto bene mi sono ripresa mi sono vi siete persi qualcosa avete scritto una marea di roba adesso leggo tutto facciamo che mi zittisco e leggo cioè commento le vostre cose quindi non solo per esempio il re leone non credo si possa definire live action o si il nuovo re leone si è interamente in computer grafica e in più è un riadattamento del re leone degli anni 90 del cartone animato Dafty dice le live action della Disney sarebbero più belli se fatti nello stesso stile in cui si vedono il Ralph spacca internet si ecco esatto al massimo ehm al massimo in effetti avrebbe senso se uno facesse un'operazione tipo quelle principesse della Disney che però non lo so quelli e quella è un'animazione un pochino tra virgolette infantile non so quanto avrebbe veramente senso cioè le principesse della Disney Ralph spacca internet sono un po' cupazzettose diciamo a me hanno fatto impazzire la scenetta è molto carina non riesco a immaginare sinceramente un la bella e la bestia o un la bella addormentata tutto in quello stile non so voi cioè non è proprio la strategia migliore questa probabilmente se fai delle serie dei cartoni proprio animati per bambini forse può avere una ragione di esistere se fai uno spin off se fai uno spin off sulle principesse Disney che abbiamo visto e spaccacca internet sì quello ha molto senso riadattare tutto quanto non lo so Dog dice davvero brutta l'issi Wonderland contrario di Rapunzel totalmente concorde con te assolutamente ma poi appunto è anche lì Rapunzel è la bellezza di una storia per carità con uno stile di animazione diverso che però funziona perché no uno non sta criticando lo stile ovvero che non devo pensare a un nuovo modo di fare determinate storie non è quello per carità a me non dispiace per nulla lo stile di Raperonzolo anche della stessa Frozen o di Zootropolis mi piace anche parecchio il problema è quando poi appunto in Alice in Wonderland invece fai quello che tra l'altro è un minestrone di CGI e di scelte stilistiche veramente di cattivo gusto perché ragazzi la deliranza credo che sia uno dei momenti più bassi nella storia del cinema e ripeto mi fa anche molto male dirlo ma anche perché andai fomentatissima al cinema Alice nel Paese delle Meraviglie è una storia meravigliosa bellissima adoravo ti adoro Tim Burton quindi non vedevo l'ora di andarla a vedere la delusione è stata una botta devastante cioè mi sto ancora riprendendo Mike dice l'idea più cringe di sempre esatto Mattia dice io direi di no ma perché ogni live action che mi è capitato di vedere mi è sempre sembrato la brutta copia dell'originale che sia mango animo adesso anche i cartoni disney vero anche per quanto riguarda gli anime c'è tra l'altro Death Note è una roba oddio oddio padonna terribile voi l'avete visto io l'ho visto che ero in Giappone perché ce l'avevo in anteprima in quel periodo ero in Giappone tra l'altro mi volevo cioè non lo so volevo fare arachiri veramente dopo averlo visto una roba imbarazzante Superman dice che è incassato Roger Rabbit feels Batman è vero existence dice G.T.M. però da un po' di tempo mi sta deludendo da un po' di tempo è dal 2010 che G.T.M. mi sta deludendo sono quasi dieci anni sì sono quasi dieci anni ragazzi tanto too much Frank and Winnie per esempio là c'era una bella ripresa però appunto perché era nel suo territorio lo faremo lo faremo un mercoledì dedicato a Tim Burton è d'obbligo ragazzi quindi quello lo faremo lo faremo però ecco per esempio i bambini speciali la casa dei bambini speciali di Miss Peregrine quando quel libro poi tra l'altro ce l'ho qua tutta la trilogia era perfetto per lui sì c'è una lieve ripresa rispetto a un big eyes che anche quello lascia il tempo che trova però insomma Mattia dice a me la principessa erano occhi è piaciuto sarà perché sono del 92 sinceramente pure a me era piaciuto abbastanza è appunto è probabilmente uno degli ultimi classici Disney con quel tipo di animazione penso che sia letteralmente l'ultimo adesso non ho controllato non ho approfondito però credo che sia l'ultimo Mike dice l'animazione 2D non invecchierà mai la CGI dopo 5-8 anni diventa già datata è vero è vero la CGI deve essere sempre al passo che i tempi devono sempre inventarsi qualcosa di nuovo il bello dell'animazione 2D invece che anche nel suo essere vintage e nostalgico nasconde una bellezza incredibile perché appunto a me viene sempre molto in mente il re leone perché tutto il lavoro che è stato fatto su re leone c'è un ci sono dei backstage e dei making of che sono meravigliosi con troupe e troupe di gruppi e gruppi di disegnatori lì in mezzi quasi nella savana che riprendono disegnano e studiano ogni movimento di animali reali cercando di creare un realismo incredibile appunto con l'animazione 2D che è meraviglioso è bellissimo per carità altrettanto bello vedere un leone che sembra autenticamente vero parlare e comportarsi però adesso anche qui non facciamo di tutta l'erba un fascio per esempio il libro della giungla di Fravù a me è piaciuto molto mi è piaciuto anche perché a livello di sceneggiatura di storia comunque cercava di prendere una piega leggermente diversa rispetto al classico Disney poi per carità il livello di animazione era immenso il livello di doppiaggio era assolutamente incredibile quindi aveva anche era fatto molto molto bene uno può non apprezzare l'operazione però in quel caso era fatto molto molto bene a differenza di un maleficente che Gesù aiutaci o anche un più recente la bella e la bestia che invece secondo me anche a livello di qualità lasciavano tanto tanto a desiderare poi vabbè sulla bella e la bestia ci sarebbe da aprire un discorso su quello che si sono fidati di fare a parte che il cast non mi ha mai convinto ma su quelli che si sono fidati di fare sul riadattamento italiano delle canzoni è una roba vergognosa Rotator dice mi ricordo quando uscirono i primi concept di Alice e di Tim Burton ero super fomentato poi ho visto il film esatto esatto true story Fran Maz dice per me è solo un modo per fare soldi delle maggior niente a che fare con la creatività fatti esatto infatti quello che dicevo prima ora non so quando me l'è scritto questo quindi scusatemi se magari mi ripeto il problema che tutti spesso dicono è la creatività è morta nessuno ha più idee no non è vero semplicemente le idee non portano soldi invece questo tipo di operazione svecchiare il vecchio e farlo nuovo porta molto molto più soldi quindi è vero non ha nulla a che vedere con la creatività stiamo parlando di cose totalmente differenti e come dici tu è una violenza ai ricordi sì poi per carità non è è solo una questione legata ai ricordi poi alla nostalgia non è che io non sono nemmeno d'accordo con chi dice è il sequel ha rovinato il film originale per esempio a me Jumanji 2 ha fatto terribilmente magari in una maniera assurda una roba demenziale che si distaccava totalmente dal primo Jumanji che invece era proprio un racconto di formazione di relazione padre e figlio tra l'altro però non è che una volta uscita dal cinema hanno rovinato il primo Jumanji basta non guarderò mai più Jumanji no semplicemente ricontinuerò a guardare solo il primo e mi sarò dimenticata il giorno dopo del secondo non è che rovinano assolutamente il predecessore però sicuramente a livello di nostalgia poi in particolar i modi classici quando c'è un punto un remake secondo me il remake è ancora peggio perché magari appunto differenza generazionale enorme ci sei tu e c'è il tuo fratellino tu sei cresciuta con la bestia il cartone il 91 lui invece con live action e trova meraviglioso il live action mentre il cartone non se lo vuole guardare e là veramente dici Disney che cosa hai fatto perché ci fai questo perché allora l'elettamente live action è un'operazione abbastanza semplice e veloce senza reinventare una storia che alla mamma Disney attendiamo il genio in tutti i sensi anche questo è vero Mac dice ma se voglio rivedermi il re leone in alta qualità mi basta un blu ray anche questo è stra mega vero però evidentemente non vendono così tanto gli on video secondo me anche perché la Disney non vi sto dicendo nessuna enorme o grande verità la maggior parte dei guadagni della Disney arrivano tutti dal merchandising e dai parchi cioè la maggior parte dei guadagni arrivano tutti da là quindi per dire non se ne possono fregare pochissimo dell'on video Leon dice il problema di la Disney è il voler monopolizzare l'industria cinematografica americana questo è un altro enorme problema questa è una roba io per esempio da quando è stata annunciata da quando era solo una voce sul fatto che la Disney stesse acquisendo la 20th century Fox la Fox per me è dittatura per me è topolino che sta diventando tra virgolette prendiamo un po' con le pinze Hitler cioè il monopolio tra l'altro è anche abbastanza illegale è una roba allucinante cioè io vedo la morte quasi del cinema sotto questo punto di vista per me è terrificante veramente terrificante non questa acquisizione a mio parere non sa da fare però vabbè io sono l'ultima delle stronze quindi direi che topolino si sciacqua ai cosiddetti se Gabriella dice ah l'acquisizione non sa da fare bon jovi adoro il tuo nick come potrei non adorare il tuo nick e adesso citazioni adesso anch'io posso perdonare chi mi ha fatto male in primis al papa che si crede il padrone del cielo in secondis a napoleone che si crede il padrone della terra e per ultimo al boiaqua che si crede padrone della morte ma soprattutto posso perdonare voi figli miei che non siete padrone di un cazzo giusto great però dice invece per il re leone ci faranno morire a mufasa in cgi che bello che gioia che immensa gioia fra mazze operazioni commerciale per la nuova generazione di bambini percorme l'animale tradizionale è morto certo certo esatto lo dicevamo esattamente prima la pixa gli ha salvato il sedere io questa cosa non la sapevo sarò sincera ero adesso la pixa è letteralmente della disney quindi però io questa cosa non 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 la sapevo per nulla scusatemi secchezza delle fauci come direbbero Aldo Giovanni e Giacomo Mike dice la morte della creatività artistica un po' come se un cantante registrasse lo stesso identico album vent'anni dopo perché l'originale è datato ma guarda non è poi così tanto la morte della creatività artistica cioè semplicemente non la tengono manco in considerazione la creatività e questa è questa la cosa ecco Gretti dice di certo non si fermano per facebook le live di Gabriella esatto siamo pulci con i soldi del biglietto ma sempre pulci ignorabili i soldi di Odanaro guardano certo certo ve l'ho detto perché è inutile lamentarsi se poi comunque noi al cinema guardare quei film a pagare il prezzo del biglietto la colpa è nostra quando si dice la colpa è dello spettatore è vero cioè il problema è lo spettatore e allo spettatore medio quella roba piace tantissimo insomma io ho visto persone emozionarsi all'evaction della bellella best ragazzi io pure mi sono messa a piangere lacrime di rabbia cioè per me la scena del ballo con la canzone principale no Beauty and the Beast che è meraviglioso sono le mie canzoni preferite da bambina insomma un sacco di minchiate nostalgiche bla 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 che momento terrificante madonna a parte il vestito di lei è orribile però tralasciamo e la seggia è di best è ancora peggio ma tralasciamo anche questo piatto un film poi che è una copia carbone brutta proprio è la brutta copia dell'originale non lo so guardate veramente non il problema è la gente di Cettrine come al solito però se invece di rifarli in CGI li avessero restaurati rimasterizzati riproposti al cinema boh sarò ingenuo io ma alla fine i bambini di oggi non si sarebbero innamorati come me da piccolo di Robin Hood alla spalla nella roccia allora in realtà questa cosa un po' ingenua la dico sinceramente pure io pure io dico questa cosa perché secondo me lo farebbero si innamorerebbero pure loro il vero problema è che comunque se voi vedete tutto ciò che guardano i bambini adesso in televisione per esempio un Marsha e Orso che ha quel tipo di animazione probabilmente il problema è anche questo cioè i bambini di adesso non sono anche tutte le storie di Topolino nuove su Disney Channel sono fatte tutte con la computer grafica con un tipo di animazione 3D quindi i bambini sono totalmente diseducati all'animazione 2D e questo è il vero problema quindi è ovvio che davanti a un Robin Hood per quanto possa essere restaurato e rimasterizzato evidentemente non evidentemente non avrebbe lo stesso appeal non avrebbero la stessa forza rispetto appunto a una CGI a un film in live action che gli esalta gli fa provare quella magia che provavamo noi terribile da dire però evidentemente è così Mike dice è uno dei momenti più bassi la cadera di Johnny Depp ma veramente ma veramente ma veramente ma per Frozen 2 ci hanno messo un po' secondo te perché ci vuole tanto a farli questi cartoni o perché scelgono il periodo giusto tipo anni fiscali eccetera Frozen 2 ha avuto una bella gestazione non era facile comunque portare avanti quel tipo di storia e capire se potevano continuare in quella direzione non so se avete visto il trailer di Frozen 2 Frozen 2 non sembra nemmeno un film della Disney in quanto ha un mood molto molto tenebroso e molto molto dark poi ha questo personaggio femminile particolarmente atipico quindi ora a prescindere dal tipo di anni perché c'è anche da dire che la Disney comunque se li fa i suoi bei calcoli e quest'anno è un anno molto fortunato per Disney estremamente fortunato quindi ci sta pure che aspettava magari un periodo di estremo rilancio e poi se l'è seminato bene Frozen 2 perché ha fatto qualche speciale e se l'è studiato molto bene secondo me c'è stato una un lavoro di preproduzione molto molto grande per quanto riguarda Frozen 2 sicuramente ci vuole un bel po' di tempo non tanto quanto per dirvi un film in stop motion un film in stop motion ci vuole veramente tantissimo tempo tant'è che ormai lo stop motion lo fa solo lo studio Laika sostanza e ci vuole tantissimo tantissimo tempo e costa veramente un pozzo un pottio di soldi costa davvero tanto Petrol dice proprio l'altro giorno avevo letto che vogliono fare un live action di Your Name ho paura che poi anche lì ma che senso ha l'altro Your Name è uscito adesso è uscito da pochissimo e ha avuto un successo enorme io capisco cavalcare il successo ma fare un adattamento in live action perché perché Greti dice per non parlare di Space Jam 2 lì proprio fuori tempo massimissimo vabbè insomma lì il fuori tempo massimissimo è perché ora che stanno tornando di moda fare sequel di film vecchi e quindi vogliono semplicemente cavalcare l'onda e l'onda poi soprattutto la nostalgia perché vi ricordo che anche l'effetto nostalgia gioca tantissimo il suo basta pensare a quante serie tv e film stanno sfornando negli ultimi anni a tema anni 80 Mike l'hanno chiamato Death Note perché dopo la visione di quell'evaction ti viene voglia di bestemmiare e inveire scrivendoti tutti i soggetti coinvolti nel progetto esatto esatto vorresti avere un Death Note e iniziare con i titoli di coda sotto mano e iniziare a scriverteli tutti quanti esatto Trigger le idee nuove sono sempre un azzardo e nessuno ha più il coraggio di sperimentare purtroppo perché nessuno ti finanzia perché poi magari lo sceneggiatore lo showrunner il soggettista il logista lo trovi pure per carità c'è pure ma nessuno ti finanzia cioè ormai la parte di sperimentazione è stata rilegata cioè la fa solo Pixar praticamente la fanno fare solo a Pixar per quanto riguarda Disney non la fanno fare a nessun altro quindi perché costa perché costa perché non sai che frutti ti darà non sai se andrà a buon film è un rischio che non vuoi comunque correre ecco è quello insomma Mike dice secondo me il problema di quel film era Mowgli che sembrava più finto rispetto agli animali in CGI infatti e Petrol dice libro della giungla forse è l'unico che si è salvato per ora io questa cosa non l'ho notata di Mowgli sinceramente cioè a me non è dispiaciuto l'attore secondo me è fatto molto bene mi ha veramente sorpreso quel film e credo ripeto credo che sia l'unico fino a questo momento live action Disney che non dico che ha senso ma che è bello ecco perché poi non è nemmeno poi tra l'altro si va pure oltre il fatto se i live action se i riadattamenti live action abbiano senso oppure no poi obiettivamente ma il film è bello oppure no ma vale la candela oppure no ti rendi conto che in tre quarti dei casi no non vale assolutamente la candela io mi domando soltanto una cosa cosa ne penserebbe Joe Walt della piega che ha preso la sua azienda ma guarda Joe Walt però era un gran forbone insomma era uno che ci aveva visto lungo probabilmente Joe Walt avrebbe continuato con avrebbe fatto i sequel sicuramente avrebbe continuato sulla scia dei sequel secondo me anche Joe Walt avrebbe fatto i live action sarò sincera anche perché purtroppo ragazzi il vero problema è che poi tutti partiamo con le buonissime intenzioni crediamo nella passione non ce ne frega niente l'inizio dei soldi delle cose si lo faccio per principio perché penso così penso a Tim Burton da sempre con un rapporto di merda terrificante con la Disney perché non ha mai voluto abbassarsi alle sue idee scendere a compromessi fare patti col diavolo poi però arriva un certo punto in cui devi fare cassa devi fare bancomat devi fare bancomat e cosa fai? fai Alice in Wonderland continui a lavorare con Disney facendo questo tipo di prodotti io ho tanta speranza come sempre anche in questo Dumbo perché per esempio Dumbo era un progetto a cui Barton teneva tantissimo ha avuto una gestazione immensa Dumbo è stato costellato letteralmente da si fa non si fa si fa non si fa si fa non si fa quindi spero tanto nella fede che uno e nell'amore che magari Barton ha riversato su questo progetto perché poi lui è sempre stato uno che andava sempre molto di cuore di impeto sulle storie sui personaggi però ripeto tutte le buone intenzioni del mondo arrivi a un certo punto in cui fai solo Bancomat e scendi a patti scendi a compromessi col diavolo stesso dopo che ne avevi dette di cotte di crude cosa fai comunque vai vai da Disney fai film della Disney oggetta dice la Disney ha comprato la Fox si assolutamente perché non lo sapevi in realtà ormai è quasi il tutto ufficiale stanno aspettando un attimino stanno mi sono persa scusatemi stanno aspettando l'ok perché vi stavo dicendo il monopolio tecnicamente è legale e se la Disney acquisisce la Fox è un network immenso è una delle più grandi major che esistono al mondo praticamente come se avesse il monopolio morale della favola insomma chi restano Warner e Universal quindi monopolio anche televisivo perché stiamo parlando anche di tutto il network Fox quindi Fox Live Fox Crime per intenderci ragazzi Search Light tutta tutta quella robina là tutta quella robina là non pensi che questi live action sminuiscono il disegno e l'animazione 2D facendola passare per una cosa di serie B rispetto a film con attori veri no non penso che lo sminuiscano in questo senso però sicuramente la fanno passare come qualcosa di datato e da dover rinnovare quindi non come qualcosa di serie B assolutamente ma come qualcosa di datato Mike dice Walt ha rifiutato questo è vero che ha rifiutato per tanti anni di fare un sequel che poteva incassare milioni con un Biancaneve 2 assolutamente è vero però stiamo parlando di un periodo molto diverso da quello che è adesso ripeto Mike ci voglio pure credere al fatto che Walt Disney magari sarebbe stato fedele alla sua politica no sequel però quando lui poi insomma ha dato nel 94 hanno iniziato a sfornare perché non so se vi ricordate esiste un Cenerentola 2 esiste un Sirenetta 2 esiste un Gobbo di Notre Dame 2 tra l'altro con una qualità d'animazione scarsissima cioè non era Disney che li faceva era Disney che commissionava quei sequel ad un altro studio e là meno male che c'era Pixar ecco appunto però io non lo so sinceramente se fino alla fine sarebbe rimasto fedele a Zewalt ci voglio credere diciamo che ci voglio credere però non ne sono così sicura allora ma quanto sarebbe bello se Nel Re Leone stavolta vincesse Scar anche a me faceva tanta simpatia Scar però devo dire la verità per Mufasa ho pianto sempre tantissimo quindi Mufasa è uno dei più grandi traumi la mamma di Bambi non me ne è mai fregata una mazza sarò sincera però Mufasa Mufasa ha tanta tristezza Mufasa ha tanta tristezza Bruno io ad esempio lo vedrei bene lo vedrei bene in un remake in live action con le foglie dell'imperatore con Jimmy Fallon nel ruolo di Cusco ecco per esempio se fai una cosa di questo genere quindi un adattamento in live action senza CGI quindi deve essere qualcosa di tutto molto ironico anche un po' posticcio un po' particolare molto comico che ora per carità magari qua ridiamo sulle foglie dell'imperatore con Cusco che è interpretato da Jimmy Fallon però secondo me in questo senso sotto questo punto di vista c'è più una ragione d'essere cioè c'è qualcosa di la reinventi totalmente cioè è un pochino diverso secondo me poi magari neanche così tanto ma secondo me un po' sì un po' sì ciao Ricky Ale dice ciao Gabriella scusa Love Topic non ti preoccupare questa live resterà su Twitch perché sono riuscita a collegarmi solo ora e volevo recuperare i 40 minuti persi sì Ale non ti preoccupare ho già bestemmiato su Twitch sotto questo punto di vista perché mi sono resa conto non lo sapevo che i contenuti scadono e quindi adesso la live più vecchia che ho fatto quella di una decina di giorni fa la faccio tutta come highlights anche se in effetti è bruttarella perché è tutta fori sync e lag ma non importa così noi tra un anno ce la ricorderemo e penseremo con nostalgia a guarda quando Gabriella faceva le live di merda ecco quindi no no le salverò tutte le salverò tutte anzi è nella speranza che a brevissimo tempo riesca a diventare affiliato in realtà mi dureranno anche 60 giorni quindi sarò anche meno con l'ansia di dover fare tutto sto lavoretto di highlights insomma la trovi la trovi sei salva non ti preoccupare Mattia dice gli anni in cui è andato di moda il 3d hanno rifatto il re leone in 3d al cinema e secondo me non era neanche tanto male se avessero fatto anche un ala di un tarza sarebbero stati fichi secondo me e ci sarei andato volentieri a vederli anche se in 3d che di base mi fa cagare anche perché pure lo stesso 3d in realtà ragazzi con gli anni è migliorato non so se vi ricordate il primissimo 3d che si la prima volta rimanete un po' e poi però vi rendete conto che era super iper mega fino a se stesso spesso e volentieri non c'era anche perché il 3d all'inizio veniva applicato invece per godere a fondo di un film veramente in 3d bisogna girarlo in 3d che è già un costo una lavorazione nettamente nettamente differente però si appunto i restauri semplicemente restaurarlo e renderlo più moderno ma ripeto secondo me la mia perplessità più grande risiede nel fatto che evidentemente i bambini perché poi sono rivolti ovviamente per 3 quarti ai bambini che accompagnati dagli adulti sono talmente tanto abituati a un tipo di animazione che ormai è molto molto distante dal 2d quindi evidentemente non tirerebbe sotto questo punto di vista non so magari si potrebbe fare sicuramente un tentativo perché no però va bene insomma vediamo famolo noi famolo noi cazzo facciamo un bel kickstarter facciamo il restauriamo un classico portiamolo al cinema e vediamo che chicchio che chicchio che cacchio allora Like e Wes Anderson è vero anche Wes Anderson che belli i due film in stop motion l'isola dei cani e Fantastic Fox giusto erano veramente sono veramente molto carini a parte che quelli non solo perché poi un conto è lo stop motion e poi dipende pure come decisi di fare i tuoi pupazzetti no perché lo stop motion può essere unito al puppet motion e appunto sono molto belli mi sono sempre molto piaciuti i personaggi usati da Wes Anderson che poi sembrano quasi sembrano che abbiano realmente il pelo le cose no no sono veramente fatti molto molto bene molto molto bene però anche Laika Laika poi fa un lavoro Kudo era Kudo e la spada magica ma che bello che bello che era a parte che poi là c'era un misto di tecniche ma i tessuti i personaggi i vestiti dei personaggi come erano fatti poi i tessuti alcuni tessuti oppure la cartapesta usata per ricreare la scenografia di alcune ambientazioni lì c'è anche un pochino c'è un po' un misto perché c'è anche un po' di computer grafica che bello lo studio Laika fa delle cose meravigliose sarò sincera molto molto belle anche Coraline mi è piaciuto veramente tantissimo lo studio Laika lo trovo estremamente creepy quindi mi piace ancora di più però vabbè per non parlare di Tim Burton che voglio dire la bellezza di per me Nightmare Before Christmas continua ad essere un film immortale cioè con un tipo di animazione un evergreen con tutto che in effetti se lo andate a guardare adesso a quella patina c'è proprio una patina con quel colore che non è particolarmente acceso cioè basta anche solo mettere a confronto un Nightmare Before Christmas con la sposa cadavere per rendersi conto anche un po' della differenza però comunque infatti non è che stiamo dicendo siamo contro al rinnovare per carità si aggiunge ovviamente qualcosa di nuovo qualcosa che faccia splendere e faccia capire che i tempi sono andati avanti però mantenendo quel tipo di struttura quel tipo di stile senza per forza riadattare con un live action che per carità ma insomma lasciano lasciano il tempo che trovano però ripetiamolo il problema sono cioè si vedono vendono 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 tantissimo però mi domando una cosa noi eravamo da bambini così stronzi che guardavamo i classici 40 anni 50 anni fa senza problemi adesso i bambini sembrano lobotomizzati alla CGI è vero è vero poi è vero anche che almeno faccio un esempio preferivo riguardarmi diciamo mille volte un la belle e la bestia un Robin Hood innamorata persa di Robin Hood piuttosto che Dumbo Dumbo per esempio a parte che mi aveva inquietato non poco mi è piaciuto tantissimo l'avrò visto però veramente tre quattro volte quando ero bambina rispetto a un Robin Hood o Re Leone quando arrivò mio fratello poi il Re Leone si guardava come minimo quattro volte al giorno e non ti stancavi mai di guardarlo Peter Pan quindi magari pure noi abbiamo avuto qualche alto e basso però eravamo abituati all'animazione 2D ponte e basta era quella la nostra animazione anche se ci pensate anche gli anime erano fatti in quel modo adesso invece pure gli anime hanno sempre no questo questo misto di tecniche di lavorazione che vabbè ci sta pure il problema appunto è riadattare con persone in carne ed ossa e fare delle copie carbone che non hanno senso non hanno assolutamente senso mi sono persa ah Great dice quindi il prossimo anno arriva Cameron e getterà le nuove basi della CGI con Avatar 2 che poi è stato proprio Cameron tra l'altro a gettare le basi della prima CGI con il primo Avatar potrebbero riscavalcare la sua prima posizione probabilmente sì per esempio anche Avatar da un punto di vista tecnico grande innovazione da un punto di vista della storia io lo trovo di una banalità estrema cioè sinceramente Pocahontas c'era già arrivata è un misto tra Pocahontas e Ida dagli alberi a me Avatar non ha fatto impazzire mi ha sorpreso da morire dal punto di vista tecnico però al cinema sono rimasta abbastanza me un po' me ma parliamo di Detective Pikachu adesso parliamo di Detective Pikachu parliamo di Pikachu Samsung ha perso la battaglia contro il Blu-ray ha vinto lo streaming ma ovvio ragazzi che abbia vinto lo streaming voglio dire chi li compra più il long video noi lo compriamo il long video gli appassionati i cinefili o i con le demonio mi piace il tuo nick demonio ciao cioè gli appassionati appunto i cinefili chi il collezionista ma chi è che li compra più ormai abbiamo tutto in streaming paghiamo 3 euro 4 euro al mese per in totale tra tutte le piattaforme che avremo non arriviamo a spendere comunque 15 euro diciamo così dai 15-20 euro insomma vogliamo fare questa spesa secondo me molto meno sinceramente al mese abbiamo praticamente tutto a brevissimo arriverà anche Disney Plus dove ci sarà tutto il catalogo Disney voglio dire ma cosa vogliamo di più è ovvio che i blu ray non hanno più vita il problema è questo Existenze dice Zio Team già il pianeta delle scimmie l'aveva fatto per il banco Matt si e no si e no in realtà perché il pianeta delle scimmie esatto era l'idea di fare il pianeta delle scimmie che aveva esaltato così tanto Tim Burton perché comunque il pianeta delle scimmie è un cult è un classico e rappresenta un po' il mondo quello di Tim Burton cioè il suo il suo stile poetico di narrazione di quel tipo di storie di quel tipo di personaggi la verità è che poi non era era tanto esaltato dall'idea ma non abbastanza da realizzarla come doveva essere realizzata infatti con gli anni con gli anni lui stesso ha messo questa cosa e ha detto che se tornasse indietro probabilmente non lo riparebbe Detective Pikachu oggi l'annuncio dei nuovi giochi Pokémon il top oggi l'ho seguito un pochino l'annuncio ma è che di fatti il genere di Tim si è arrestato quando sono aumentati i soldi che tristezza però ma mica il solo tra l'altro voglio dire io porto avanti un'enorme battaglia con Ridley Scott voglio dire Ridley Scott è un altro che fa solo Bancomat ve ne siete resi conto cioè ormai Ridley Scott non so da quanti anni non fa più un film per il piacere di raccontare una storia o di fare un film un giorno non adesso perché poi mi scaldo però un giorno apriamo la parentesi Covenant e Prometheus e anche la parentesi titoli ingannevoli che pure quelli fanno la differenza fanno tanto la differenza ciao Ugan Petrol dice piuttosto che Scar preferire tre liene che governano la savana lol vero anche questo sarebbe interessante che lì poi che bello in quel periodo dove si sceglievano grandi autori per scrivere la colonna sonora per scrivere le canzoni si sceglievano grandi doppiatori per doppiare i personaggi cioè era tutta un'altra storia era tutto un altro mondo che tristezza veramente ragazzi Claude dice piccolo consiglio se crede le raccolte e metti lì le live non te le dovrebbe cancellare grazie Claude seguirò il consiglio poi poi ci proverò ci proverò e smanetterò un pochino il micifico dice buonasera sono qui da poco ma mi sono già affezionata al canale ma grazie ma siete carinissimi grazie grazie mille grazie grazie mille ovviamente lavoreremo lavoreremo per per farne sempre di più di live ora non voglio perché io poi mi fomento io mi fomento tantissimo e quindi ah ok facciamo una live al giorno poi mi rendo conto che non ho il tempo purtroppo di fare una live al giorno quindi preferisco andare con calma e fare tutti i miei test anche perché ragazzi ci abbiamo messo un pochino per avere una live decente per capire qual era il trucco e il problema per avere una live decente senza spendermi i soldi per un nuovo computer però piano piano insomma ingrandiamo il canale insieme a voi anche con le vostre idee quindi grazie grazie mille poi Existence dice Cubo ma anche Paranormal era bello è vero pure Paranormal non era male non mi hanno fatto impazzire come Cubo Cubo per me è fantastico però era veramente veramente molto molto buello molto buello allora Rotator dice teniamoci stretti lo studio Ghibli va assolutamente assolutamente teniamocelo strettissimo ormai è l'unico che riesce tra l'altro a combinare l'innovazione con l'animazione 2D e a raccontare delle storie sempre diverse e sempre più belle e sfruttando tra l'altro quasi sempre lo stesso universo bellissimo poi quanti pianti mi fa fare lo studio Ghibli è veramente bello poi se avete modo di se farete mai o se avete fatto se avete un programma di fare un viaggio a Tokyo andate a vedere il museo perché è meraviglioso è bellissimo a quanto pare stanno finalmente aprendo un parco tematico appunto a tema studio Ghibli e non vedo l'ora non vedo l'ora di vederlo e quindi una scusa in più per ritornare tra l'altro in 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 Giappone quindi super mega happy allora Great dice io mi ricordo le cassette che mettevamo in casa anche per compagnia mandando avanti la storia è il nostro punto preferito oh mio dio che tristezza le cassette e quanto era bello quando cioè non so voi ieri mi fomentavo tantissimo quando la pubblicità all'inizio di ogni cassetta era quasi sempre Disneyland Paris ti facevano vedere Disneyland Paris e uno dei giochi era lo lo space di di Star Wars e come era bello io ogni volta sognavo di andare a Disneyland non vedevo l'ora e l'ora è arrivata quando ho avuto 23 anni tra l'altro ma non importa mi sono fatta tutti i pianti che mi sarei fatta da bambina la regia dopo che continuava a piangere interrottamente dopo che era passata già un'ora che eravamo dentro il parco ha fatto allora o la smetti o ce ne andiamo tipo papà adesso ce ne andiamo via ti porto via però è stata un'emozione enorme che era appunto fomentata dai miei ricordi da bambina quando all'inizio di ogni cassetta c'era c'era la cosina là che bello che erano belle le cassette alcune la maggior parte le ho rovinate tutte a furia di usarle 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 poi vabbè mio fratello era pure una peste quindi ci giocava sempre col nastro un peccato un patrimonio abbiamo buttato buttato tra virgolette insomma allora Pieri dice Disney Plus secondo me si farà pagare un occhio chissà chissà secondo me no dai non penso perché c'è una competizione no c'è Netflix te lo regala l'abbonamento se ve lo dividete 3 euro con il 4k è regalato non è un cazzo per il catalogo Netflix Prime se ce l'avete tra l'altro in omaggio è vero a 30 euro sembrano tanti però sono 30 euro all'anno e avete tutto il catalogo Prime avete il Prime ciao ci sono un bel po' di vantaggi quindi e poi appunto 30 euro se li dividiamo in 12 mesi non è nemmeno poi così tanto Ale dice io con Netflix e Amazon Prime arrivo a 18 euro al mese è un po' è un po' evidentemente perché Netflix però non lo dividi con nessuno senza calcolare Sky vabbè Sky in effetti è un'altra roba però se uno si fa il problema di Sky è che uno potrebbe risolvere il problema con Sky Go se non fosse che la qualità di Sky Go è veramente veramente infima cioè bassissima e adesso finalmente sono arrivati all'HD ma è proprio una qualità scrausa e mi toccano ogni volta i nervi a guardare le robe lì infatti puntualmente lo disdico lo rinnovo quando mi interessa proprio qualcosa e poi lo disdico di nuovo perché non mi fa impazzire non vale nemmeno quei 3 euro o quanti sono insomma ora 3 euro per dire il micifico dice Amazon Prime a 3 euro al mese con l'annuale da 36 più Netflix condiviso a 3 euro e 50 appunto quindi 6 euro e 50 fate voi con qualità se audio e video di contenuti sì no infatti è una roba incredibile cioè appunto con meno di 7 euro un catalogo vastissimo e anche Infinity devo dire la verità non è male non è malvagio ha molti molti film ma l'unico problema di Infinity è che la roba scade relativamente in fretta però io Infinity lo sto usando lo sto usando anche tutta la sezione quella Prime prima vista quindi che per una settimana vi fa vedere in anteprima un film non è male Infinity non è ancora a livello di un Amazon Amazon deve ancora un po' crescere però Amazon ha dei bei contenuti di qualità non è ancora a un livello come quello di Netflix e di Amazon anche perché poi Infinity non ha praticamente originali però secondo me vale abbastanza la candela Infinity poi dipende anche sinceramente quanto quanto voi usate ovviamente quanto state davanti alla televisione anche questo è vero allora si facciamo live su Prometheus e Covenant la prossima ci possiamo pensare Lola Len Covenant e Prometheus 2 a sto punto meglio farlo fare nel blockcamp esatto come in Covenant e Prometheus 2 in che senso è in che senso nel senso che letteralmente Prometheus 2 non so se eri no eronico mister popi però letteralmente insomma è stata una una presa per il per i fondelli letteralmente una presa per i fondelli existence dice sono stata in Giappone già sei volte madonna che bello io mi sono totalmente innamorata sono andata con il primissimo nerd trip di Lega Nerd mi sono totalmente innamorata del Giappone sono stata due settimane e tra l'altro su Lega Nerd lo fanno sempre il nerd trip in Giappone ci vanno almeno due volte l'anno c'è stata Tokyo Kyoto Osaka Hiroshima Nara è stato bellissimo mi sono totalmente innamorata di Kyoto Kyoto top mi sono bloccata ma mi sentite perché io qua vedo il buffering forse lo fa solo la mia anteprima perché in realtà qua dice che la live è ottima fatemi sapere se state avendo dei problemi guys ditemi se c'è qualche problema vado avanti scusatemi dicevo che sono innamorata follemente del Giappone in realtà speravo di ritornarci già quest'anno questa primavera purtroppo non mi sono mosso abbastanza in fretta io e la regia volevamo festeggiare il nostro enorme anniversario però rimanderemo questo viaggio in Giappone mi sa anche perché io poi ci sono andata ad agosto che è periodo infame però ho perso 6 chili cioè ho fatto tutto 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 faceva talmente tanto caldo però ho fatto comunque tutto ogni tanto ho fatto la drama queen l'ammetto però però ho perso 6 chili e mi è piaciuta comunque tantissimo quindi grazie a Giappone per quei chili che poi abbiamo ripreso comunque però vabbè insomma la gioia di essere magra l'ho avuta per un paio di mesi ha laggato un po' però ora ok vabbè l'importante è questo giovani l'importante è che ci siamo ristabilizzati insomma allora un attimo dicevi existence dicevi sono stato in Giappone già 6 volte e non sono ancora riuscita a vedere il museo Ghibli ogni volta trovo tutti i giorni che sono a Tokyo già full allora in effetti il museo Ghibli è un po' particolare io mi ricordo che si può prenotare il biglietto solo una volta al mese e puoi prenotare massimo 6 biglietti tipo una roba del genere bisogna farlo molto prima e devi programmare e devi sapere che quel giorno andrà assolutamente allo studio Ghibli quindi quando tu programmi in pratica la tua vacanza in Giappone e sai che starai 6 giorni a Tokyo per dire allora devi assolutamente c'è un giorno fisso e per il museo Ghibli quindi devi mettere tot tempo prima almeno un paio di mesi prima e devi prenotare la visita si è un po' è un po' una rottura di palle non è simpaticissima questa questa cosa in effetti allora reverendo mi chiede come mai la playstation camera perché mi piacerebbe fare le live su giocando alla playstation molto banalmente e molto semplicemente twitch ti dà questa possibilità cioè lo puoi fare tranquillamente in sostanza batto senza il mio video cioè non mi vedreste per carità magari è pure meglio dite voi invece con la playstation camera mi vedete mi sentite magari ha più senso soprattutto quando quando faccio le cazzate cioè è bello insultare una persona che guardate in faccia se no ti piace vincere è facile se no potrei fare la furba mettere a giocare la regia e dire che sono io che sto giocando è per quello è semplicemente per quello insomma Gritte dice e poi ora che Disney a Fox potrebbe fare un alien decente invece ci fa una serie tv ma in cartone che orrore anche se oddio non sarebbe male educare i bambini con la paura dell'oxenomorfo cioè pensate a un cartone animato con un oxenomorfo che ti esce dalla pancia mi piacerebbe io lo guarderei sinceramente e lo farei pure guardare a mia figlia poi il giorno dopo avrei gli assistenti sociali sotto casa ma non importa o emettere non è male il micifico dice Skego fa veramente schifo per non parlare di Dazon come cavolo si chiama vabbè io Dazon non lo uso non sono calciofila la regia meno di me quindi figuriamoci un po' Mal dice buongiorno iniziamo sempre prestissimo queste live alla fine arrivo sempre all'ultimo ma no eh sì iniziamo alle sette e mezza in effetti devo posticiparle un pochino dite in realtà quando ci metteremo a giocare le vorrei fare un po' più tardi magari dopo cena tipo o alle nove e mezza dalle nove e mezza nove e mezza a undici e mezza una roba del genere quello potrebbe quello potrebbe essere ahia pizzica il naso quello potrebbe essere un'idea adesso mi scaccolo in diretta no in realtà mi pizzica c'è della polvere in camera spolvero sempre sempre evidentemente mi irrita un attimino allora great Amazon sta aspettando il signore degli anelli se non erro assolutamente non vediamo l'ora ma in realtà Amazon si sta solo caricando si sta solo scaldando un attimino perché Amazon da primavera in poi ha un fottio di serie super fighe allora prima di tutto la seconda stagione di American Gods poi Good Omens Buon Apocalisse a tutti poi arriverà la serie di Nicholas Weeding Refn Too Old to Die Young poi ci sarà Carnival che sarà pure un tipo un horror gotico una roba del genere con Cara delle Vigne e Orlando Bloom che detta così non è che uno se la vende benissimo c'è ancora qualcosa altro quest'anno c'è un botto un botto di roba che dovrebbe arrivare su su Amazon Video e vabbè il signore degli anelli dovrebbe arrivare per il 2020 se non mi sbaglio tra l'altro adesso ci sarà però il film su Tolkien vero vero non mi ricordo di chi è però Warner 20 forse è Warner è laggato un po' è ok molto bene Vodafone Canaglia infatti sì Mortacci Trigger dice io ho apprezzato Prometheus ma Covenant è stato un colpo al cuore parlo davvero fanatico di Alien appunto perché parli davvero fanatico di Alien quindi è stato un colpo al cuore allora Prometheus ha dei bassi degli estremi bassi però c'è da dire una cosa che il concetto di fondo in Prometheus non era male cioè l'idea quel tipo di approfondimento a me piaceva moltissimo secondo me aveva dell'immenso potenziale e mal sfruttato che poteva essere ben sfruttato nel secondo in Alien Covenant ma che poi insomma è risultato una cagata pazzesca cioè per me Covenant è male scusatemi se sono veramente così brutale per me cioè è stato tra l'altro l'ho visto in anteprima il giorno del mio compleanno era il 3 maggio che orrore cioè che orrore ragazzi che orrore vabbè insomma ogni tanto ti blocchi mi dice great però non più vero cioè c'era stato solo quel momento questa serie è scomodissima prossimo acquisto di Gabriella è una serie decente allora Anna è la seconda volta che Fizio ha un mio commento oddio spero di aver recuperato no Existence ti prego cioè ho risposto poi ho letto tutto è vero mi avevi dato un input e poi sono andata avanti però dovrei averlo recuperato insomma e mi ci ficco è bello insultare una persona che guarda in faccia e infatti sì ragazzi cioè voglio dire ma non vedi quella cretina di Gabriella come gioca male infatti poi sarà gioca male con Gabriella la vedo male la vedo bruttissima sarà un risperimento terrificante e app dice saluti da lontana Svezia ciao ciao che bella la Svezia vorrei venire molto in Svezia tipo la Scandinavia è un'altra delle mie mete vorrei fare un sacco tipo un po' da vecchia la classica cruciera sui fiordi ma mi piacerebbe molto andare in Svezia Norvegia Danimarca Finlandia mi attira molto mi attira moltissimo la Scandinavia quindi spero di farlo il prima possibile uno dei viaggi che è in wishlist che è prima o poi ad averci tempo e danari se farà se farà allora Greta dice Netflix The Witcher apriremo pure questa parentesi ragazzi apriremo pure questa parentesi non vi preoccupate arriverà arriverà il momento di aprire quella parentesi quella porta sarà un flame totale un flame devastante ne parleremo ne parleremo ciao Diamond grazie mille per l'iscrizione poi Goodomans appunto ma quanto l'aspetto quanto l'aspetto Goodomans cazzo quanto l'aspetto non vedo l'ora di vederla sono molto fomentata così come per American Gods 2 perché amo Neil Gaiman mi piace da morire Neil Gaiman mi sono pure fatta una foto con lui perché il mio primo can quindi il can di due anni fa presentavano l'adattamento di How to talk with girl at the parties at parties di Cameron Mitchell un regista che io adoro da morire alla follia insomma il suo film più iconico Edwige di Anne Grinch che poi è anche un musical portato riportato portato anche da Neil Patrick Harris quindi amo la follia c'era un connubio meraviglioso e sono stata poi invitata perché purtroppo vabbè questa è una parere gli uffici stampa non sempre fanno il loro lavoro e lavorano con il target sai com'è ciao Lega Nerd vorrebbe fare un'intervista a Neil Gaiman sai com'è siamo un attimino in target no direi proprio di no damola al corriere del Pinco Banco per dirne una successo veramente true story e mi invitarono però alla festa del film appunto dove c'era pure la fanning dove c'era dove c'era pure cosa oh mio dio oh mio dio non mi viene il nome Gesù non mi viene il nome ah l'ex moglie di Tom Cruise l'ex ex moglie di Tom Cruise oh mio dio non mi viene il nome come cavolo è possibile vabbè no vabbè ragazzi panico panico aiutatemi aiutatemi perché non mi viene il nome di un'attrice fighissima e bravissima Gesù oh mio dio Nicole Kidman c'era pure Nicole Kidman signore mamma mia c'era anche Nicole Kidman e quindi ecco tre c'era Nicole Kidman non mi veniva Nicole Kidman avevo la sua faccia non mi veniva Nicole Kidman e quindi ovviamente oltre a Mitchell c'era anche Neil Gaiman che è stato brutalmente rapito da me e le mie colleghe ci siamo mi sono fatto una foto con lui lui aveva un bel sorriso abbiamo chiacchierato un pochino però mi sarebbe piaciuto chiacchierare in un ambito in un ambiente un pochino più professionale dove eravamo tutti meno brilli però è stato divertente anche così sarò sincera ci vanno un sacco di chiacchierate belle con i talent anche da brilli anche quelle sono abbastanza interessanti però quasi sempre vanno in vacca e non ci puoi scrivere su un un'intervista l'anno scorso a Cannes la festa di Solo Star Wars Story c'era tutto il cast e ridendo e scherzando mi sono messa a parlare con Woody Harrelson che era notevolmente ubriaco io ero brilla ma lui era notevolmente ubriaco fatto sta che mi si stava rimorchiando alla grande poi abbiamo detto ok ok facciamo un passo indietro facciamo un passo indietro allora Petrol dice sei già che giochi potresti porteresti in stream magari giochi basati molto sulla narrativa esatto in realtà vorrei portare proprio quel tipo di giochi adesso per ingannare il tempo vorrei iniziare appunto con qualche avventura grafica se riesco a farlo dal computer in realtà dobbiamo un attimo sistemare l'audio perché non siamo riusciti a sistemare l'audio quindi ecco perché ancora non vi ho messo un terzo giorno vediamo se in extremis riesco a farvi una super iper mega sorpresa tanto poi io vi annuncio ve lo dico sempre su Instagram quindi iniziare già da domani sarebbe top altrimenti settimana prossima e quindi qualche avventura grafica appunto da fare qui e poi mi piacerebbe appunto qualcosa di più narrativo da giocare anche sulla Playstation qualcosa anche alla Detroit che a me è piaciuto moltissimo roba un po' di su questo genere poi ci sta insomma se non voglio commentarmi troppo però qualcosa di un pochino più conosciuto anche molto più conosciuto oppure più più attuale non sarebbe male però ecco a Resident Evil non so sarebbe bello giocare a Resident Evil ma non lo non lo so sinceramente anche se Mal dice dai non puoi giocare peggio dei due su di quei due su Resident Evil no è vero peggio di Pianesani non gioco però però un po' di cacazza ce l'ho quello quello si era ubriaca anche Emilia Clarke sai che Emilia Clarke è stata pochissimo quindi non sono riuscita ad avvicinarmi a Emilia Clarke quindi non te lo so dire se fosse ubriaca oppure no allora poi allora Wunderblack tu mi dici perché rovina Wunderluck perché non prendete direttamente una webcam invece che una playcam specifica perché in realtà io ce l'ho la webcam quella che sto usando praticamente in questo momento pure molto buona però non va bene a quanto a quanto pare non va bene non funzia io mi fido di quello che dice la regia quindi quella non va bene comunque sì anche per i giochi perché leggo subito il commento di Mike che dice l'importante è che mantieni la tua linea dark anche in ambito videoludico assolutamente il senso il senso è quello mantenere comunque un certo mood anche per quanto riguarda i titoli ecco perché sinceramente magari non saranno i giochi più entusiasmanti del mondo però non mi dispiacerebbe fare con voi che ne so un Walking Dead o un Game of Thrones anche perché poi sono giochi basati sulle scelte quindi non lo so mi piace anche l'idea di coinvolgervi sotto questo punto di vista e fare delle scelte insieme ecco perché pensavo anche a un Detroit per esempio non so non so che mal di gola che mal di gola mannaggia allora mi riprendo allora visto il teaser d'annuncio di Midsommar di Ari Aster Hereditary no no non l'ho visto allora altra cosa che sistemerò brevissimo se non lo vedevamo così qui adesso è mettere assolutamente il cioè farvi vedere anche i trailer che ancora non mi sono messa a smanettare con OBS ho sempre un po' di terrore visto che adesso che abbiamo raggiunto delle live di buona qualità in sync senza lag però devo assolutamente assolutamente mettere il coso in modo tale che possiamo posso farvi vedere roba cavolo lo recupero immediatamente appena finiamo la live comunque e poi ne parliamo domenica ne parliamo domenica di un po' di novità insomma di cose maldice tra l'altro ciao knock maldice prometheus è veramente brutto poi aspetto con ansia buona apocalisse a tutti sono concorde con tutte e due le tue affermazioni allora gret dice ma le serie tv di disney sono già pronte secondo te alcune no alcune si hanno poca poca roba ovviamente devono macinare devono macinare un sacco ecco perché adesso secondo me stanno puntando il tutto e per tutto sulla serie tv di star wars e anche per quanto riguarda l'animazione quindi si devono giocare dei forti cavalli di battaglia mentre nel frattempo iniziano a riempire il catalogo anche perché ragazzi non è che il giorno stesso in cui arriva disney plus automaticamente tutta la roba che c'è per esempio di marvel disney su netflix o di disney sparisce là ci sono degli accordi quindi loro devono anche aspettare che finiscano quegli accordi che i contratti scadano quindi e fino a quando non arriva questo loro non è che il giorno x dell'arrivo di disney plus ne troveremo tutto il catalogo disney quindi hanno bisogno sicuramente si stanno preparando un bel po' di serie ci saranno secondo me tante serie terrificanti cioè le robe di disney channel per intenderci per capisse e poi ci saranno i cavalli di battaglia come appunto un come si chiama come uno star wars però secondo me non hanno ancora tutto tutto mega mega pronto allora auga a tutti auga anche a te pro ti chiamerò pro ti chiamerò ti chiamerò allora app mi dice sei sempre la benvenuta immagino per la svezia grazie mille poi great dice anche zombie land 2 aspetto ma so world war z2 non sa da fare non sa da fare un'altra major ha detto no no infatti sembra che non la vogliono assolutamente fare quello zero a me non è che avrà piaciuto tantissimo sapete il primo non lo so a voi si non me l'ha fatto impazzire zombie land invece sono estremamente estremamente curiosa adesso ste ora parliamo di detective pikachu lo so c'è ragione anche perché siamo andati un attimo off topic stavamo parlando dei live action e ci siamo messi a chiacchierare ma è giusto anche questo allora potresti fare un'ospitata quando giocano i magnifici 2 allora è ospitata con me medesima solo quando sono a Terni e quindi perché lo sapete la redazione di multiplayer è a Terni io sono a Milano quindi se mi capita sicuramente andrò prima io a Terni prima che loro finiscano di giocare a Resident Evil 2 almeno alla prima linea quindi quello si potrebbe fare quello si però insomma io non sono fisicamente lì il problema principale è quello Detroit l'ho amato anche io Gretti dice oppure massacrare gente in GTA 5 per sfogare la rabbia di Gabriella repressa assolutamente 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 questo si deve fare si è dimenticata di parlare di Detective Pikachu assolutamente no adesso ne parliamo quest'anno a Bomba Pill quello quello è la grande quello è la grande non vedo l'ora di vedere Us quello non vedo proprio l'ora tra l'altro manca poco Aster zombie flanagan si quest'anno c'è un po' di horror c'è un po' di horror io non vedo l'ora di vedere Petsamatery Petsamatery è il film che attendo di più attendo assolutamente di più si sono abbastanza convinta di questo poi GTA 5 non passa mai di moda anche questo è vero Detective Pikachu ispira parecchio Ryan Reynolds farà straridere il ruolo dei Pokémon allora Detective Pikachu parliamo di questo Detective Pikachu che in effetti quando mi è stato detto quando è uscito il primo trailer non mi ricordo un po' di tempo fa ero tipo cosa? e soprattutto questo da dove l'hanno tirato fuori letteralmente dal cilindro perché è stata una super iper mega sorpresa e devo dire la verità sembra sembra che abbia tutte le carte regole per essere un film veramente divertente ecco in questo caso un live action perché anche lì si parla di live action perché c'è un misto poi di animazione in CGI e persone in carne ed ossa sotto questo punto di vista i live action hanno senso cioè tornando alla domanda di prima abbiamo realmente bisogno di live action dipende in che senso se l'live action è una tecnica quindi ed è sfruttato in funzione di una nuova idea oppure di un adattamento di una cosa che non è mai stata vista al cinema perché no io sono anche abbastanza favorevole per esempio agli adattamenti dei videogiochi è un vero peccato che non li sappiano fare però se solo si impegnassero un'oncetta di più forse sarebbe meglio e probabilmente l'ultimo Tomb Raider non mi è dispiaciuto però manco a dire sono uscita dal cinema estremamente soddisfatta probabilmente l'unico adattamento che veramente mi abbia soddisfatto di un videogioco è stato Castlevania ecco questo è un altro bello argomento di cui potremmo parlare prima avevo una rubrica su multiplayer che era un po' faticosa parlare appunto di tutti gli adattamenti cinema videogiochi quello è interessante quello sarebbe molto carino non so se se vi va però sarebbe interessante fare un parlare di quello vediamo insomma quando appena finisco questa live facciamo un bel sondaggino anzi vi faccio il sondaggio proprio qui vi metto il sondaggio ve lo metto qui così ogni volta lo scegliete voi l'argomento e dicevo quindi invece appunto se l'evaction viene sfruttato per qualcosa di innovativo e non per Disney che riprende tutti i suoi classici e li fa in live action che insomma voglio dire Re Leone sembra figo ma poi sarà una copia carbone magari bella ma sempre una copia carbone Aladdin pare una cagata pazzesca Mulan l'hanno cambiato in tutte le lingue del mondo ormai no quindi dipende da come viene sfruttato in live action nel caso di Detective Pikachu secondo me sembra essere un'idea molto molto interessante molto divertente sicuramente in questo periodo ora i Pokémon non sono mai passati di moda questo mi sembra abbastanza chiaro però nell'ultimo periodo si sta avendo un forte rilancio del brand Pokémon è stata un'idea molto saggia fare questa tipologia di film che a quanto pare sarà anche estremamente ironica sembra fuori di testa adoro adoro il fatto che sia stato scelto Ryan Reynolds secondo me secondo me sarà una roba strepitosa mi fa molto molto sorridere tant'è che adesso sono già usciti millanta meme e animazioni con Pikachu e Deadpool insieme quindi 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 ho dei mi sembra mi sembra carino mi sembra divertente anche questo nuovo trailer che secondo me è uscito devo dire la verità sono sono molto 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 curiosa mi dà delle good vibes ecco diciamo diciamo così tanto lo sappiamo che non ti perdi nessuna le loro live lo so ovvio che lo sapete faccio un sacco di storie se ci sei domani assolutamente sì l'ora iniziano alle 2 generalmente io alle 2 su Lega Nerd popcore time finisco alle 2 e mezza di fare popcore time e poi mi collego direttamente sul canale di multiplayer ma assolutamente sì ho appena visto il trailer di OA part 2 hai visto la prima parte che ne pensi a me era piaciuto moltissimo di OA non ho ancora visto il trailer di questa seconda parte seconda parte che si è fatta attendere un botto un botto però per me è interessante per me è interessante mi sembra interessante mi sembra molto molto valida più che altro quindi non so è un po' particolare non è piaciuta a tutti ammetto che è molto intricata bisognava stargli un po' dietro spesso alcune cose erano totalmente no sense e lasciava aperti millante interrogativi quindi la parte giù la parte seconda la parte e giù la parte 2 era anche necessaria e si sono presi un bel po' un bel po' di tempo poi vabbè adoro jason isaac quindi dove c'è jason isaac c'è casa quindi allora fai una live dove spaventi Pierpaolo con la tua ombra sarebbe molto interessante ragazzi quell'uomo si spaventa per nulla io lo perculo cioè dovrei farvi sentire i nostri audio quello perculo da morire ed è pure il mio capo ma con che faccia riesco a dargli credibilità allora Ale a te Pezzematery ti sa dibogliata posso capire il tuo sentimento sinceramente il primo adattamento cos'era degli anni inizio anni 90 fino anni 80 a me non era dispiaciuto per nulla cioè secondo me era uno dei pochi libri di King adattati per bene ricordo di averlo visto anche abbastanza piccolo poi l'ho rivisto a me non è piaciuto assolutamente cioè a me è piaciuto molto quindi non pensavo nemmeno che stavano lavorando su un nuovo adattamento è vero che ormai li stanno rifacendo tutti c'è da dire che purtroppo King non viene mai trattato benissimo non riescono mai o vabbè ti trovi con Kubrick ma anche lì Shining comunque è molto diverso dal libro di King o fai un'operazione un po' quella alla Moschetti dove gioca con It gioca sì col significato di paura non è terrificante però tanto quanto il libro It oppure vabbè gli fanno delle cagate assurde come The Mist la serie The Mist è terrificante i vampiri di Salem Sloth ma lo che brutto quel film brutto 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 e ce ne sono altri mille che adesso non mi vengono in mente molto probabilmente ne hanno fatti così tanti uno degli autori più riadattati in assoluto però non mi sembra male non so il trailer mi ha convinto e mi ha incuriosito spero di non sbagliarmi però è probabile purtroppo con queste operazioni che mi possa sbagliare sicuramente poi ve ne parlerò quando lo vedrò il film esce il 9 maggio ed è di 20th Century Fox infatti devo rileggermi il libro per l'occasione allora il film di Silent Hill come adattamento nella malaccia a me piaceva sì non era male il primo film in effetti ma anche il primo Resident Evil non era poi così malvagio si distaccava a un certo punto però aveva una sua ragione di esistere il problema è come l'hanno continuata la saga di Resident Evil parliamoci chiaramente Uncharted deludentissimo il film ah che meraviglia l'adattamento di Castlevania meraviglioso cioè bisognerebbe fare una puntata solo su Castlevania ve l'ho detto anche l'altra volta quanti pianti che ho fatto su Castlevania mamma mia quello è un adattamento meraviglioso quello è fatto proprio proprio bene mi piace il tipo di animazione mi piace il tipo di contaminazione di tecniche secondo me sono stati molto bravi considerando che è stato fatto da americani infatti non l'ho trovato in giapponese la lingua originale è quella inglese c'è un lavoro sui personaggi molto bello capisco che il tipo di disegno non possa piacere a tutti però a me non ha disturbato l'unica cosa che a me ha fortemente disturbato di Castlevania è come è stato diviso il progetto perché obiettivamente quella prima stagione non aveva senso di esistere era una prima parte che era veramente un bites un pilot e basta non era più di quello e ti faceva girare i coglioni non poco perché il prodotto era buono però ti lasciava letteralmente così è come qualcuno che ti fa assaggiare una cosa e te la toglie di bocca quindi una roba devastante sotto quel punto di vista lì si sono fatti mali calcoli a mio parere ed era una prima parte non una prima stagione recuperato alla grande con la seconda stagione che invece è una seconda parte in effetti vista tutto insieme è una prima stagione completa finisce con un bellissimo cliffhanger e uno si aspetta ovviamente una terza stagione che dovrebbe arrivare l'hanno confermata no non ricordo ma ricordo di sì comunque è bella 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 una delle serie animate veramente veramente fantastiche mi state dicendo devilman crybaby sapete che l'ho iniziata appena l'ho più continuata scemo mi la devo continuare la devo riprendere ne parlavo proprio qualche giorno fa con la regia la devo proprio riprendere il salentino il film non era male no no allora su la faremo facciamo la live sull'adattamento focus cinema adattamento videogiochi facciamo la live non vi preoccupate ne parliamo ne parliamo di questo allora io comunque rimango del mio parere che la vera Lara è con le pistole e non con l'arco vabbè è ovvio che il nuovo Tomb Raider si rifà alla serie reboot voglio dire su questo se ne è parlato se ne è straparlato però posso capire che è la Lara iconica quella che dici tu quella con le pistole certo è quella dell'immaginario degli anni 90 è quella che ha creato un nuovo modo di concepire l'eroina donna in modo totalmente diverso per carità assolutamente ha senso è ovvio che per te Lara è quella anche per me Lara è quella però a me non è dispiaciuta quella del reboot e sinceramente il film sotto questo punto di vista è stato molto fedele a degli alti e bassi cioè non non è la peggiore trasposizione di un film tratto da un videogioco così come però non è neanche la migliore allora a me il trailer ha gasato una cifra certo va sempre considerato l'effetto nostalgia ma se il fanservice è fatto bene ci sta secondo me Mattia stavi parlando di Detective Pikachu immagino ma per quanto riguarda gli adattamenti videogiochi film cosa ne pensi gli adattamenti fumetti film ma stai parlando dei cinecomic immagino ma in realtà il cinecomico ormai cioè non puoi fare nemmeno un vero e proprio paragone se ci pensate loro prendono i personaggi bene o male prendono quel tipo di storia ma poi alla fine cioè sono universi a parte sono universi paralleli fanno fanno totalmente un'altra un'altra cosa ecco non cercano ma anzi che non cercano nemmeno di mantenere totalmente il mood dei fumetti riprendono quelle storie riprendono quei personaggi ma poi hanno preso delle direzioni molto differenti basta vedere come hanno trattato Ragnarok insomma allora poi mi avevi chiesto c'è qualcosa che ti piace sono un amante dei cinecomic quindi però sì ce ne sono stati alcuni che mi sono piaciuti molto il primo Iron Man per esempio Logan anche se Logan io non lo considero nemmeno un cinecomic è proprio una roba totalmente diversa no ce n'è qualcuno che mi ha non mi è dispiaciuto per esempio per quanto sia un po' un po' troppo comico anche il primo Avengers a me aveva fatto sorridere però ecco non mi strappo i capelli devo essere sincera Infinity War mi è piaciuto è stata una rivelazione sotto quel punto di vista mi ha quasi emozionato ma perché semplicemente dopo dieci anni che fai in effetti un percorso vivi un po' quella cosa con estremo con estremo emozione e trasporto con molto con molto pathos diciamo diciamo così ecco allora anche perché i primi 30 minuti sono cazzeggio di piani sani e sento odore di sangue sarò contento il maestro le azioni di Nintendo sono stabili e in crescita ora può comprarsi l'intero Lidl può comprarsi l'intimo all'idola solo perché il marito della tipo è il regista le volte giocare in casa non porta benefici anche lì giù di reboot lo hanno detto intendo Resident Evil ah sì perché il marito di Anderson è il marito della Jovovich il reboot in effetti lol che bella questa emoticon di pianella il reboot in effetti allora se faranno il reboot ovvero se prendono Resident Evil 7 Resident Evil 7 ragazzi è bellissimo mi è piaciuta da morire i primi minuti mi hanno fatto gagare in mano come poche cose nella vita però cioè lo devi lavorare benissimo è proprio bisogno di un regista horror che sappia trattare il genere horror non puoi fare una roba abbozzata e sinceramente non mi piace il regista che hanno scelto è il regista di 47 metri che non mi ha fatto paura manco per un cacchio e ho partecipato pure a un anteprima particolare dove mi avevano messo un frequenzimetro non so come cavolo si chiama comunque un coso un orologio che mi misurava le pulsazioni l'ha collegato qui al petto e misurava le pulsazioni perché appunto ho 47 metri sono queste tizie che si mettono in una gabbia vengono immerse nell'oceano in mezzo agli squali ovviamente la gabbia si rompe ovviamente e quindi doveva farti venire le palpitazioni l'ansia e roba di roba di questo genere una sega considerando che Resident Evil 7 invece è un bel gioco pieno di ansia pieno di paura poi certo a lungo andare inizia a capire i meccanismi e quindi ti fa un po' meno paura però all'inizio la tensione c'è quindi è bisogno di un regista che sappia portare avanti la tensione ecco quindi non lo so però non mi dispiace l'idea del fatto che Netflix vorrebbe fare una serie tv dipende però quella serie tv cioè cosa vogliono raccontare con quella serie tv magari è la volta buona che si riscattano appunto di tutti quei film che hanno fatto tutta altra roba non è Resident Evil quella quella roba Mattia dice ma basta con gli horror così squalisi infatti che poi non li fanno manco bene facessero veramente paura ancora ancora sì horror tra virgolette ragione sì Gabriella Netflix ha già confermato terza stagione di Castlevania me lo ricordavo appunto allora bel argomento erattamente mi metto a studiare allora così arrivo preparato molto bene bravo bravo ci fa piacere poi ci siamo persi un attimino il focus secondo me sembra un attimo di debolezza ho fame a breve andrò a mangiare però finiamo finisco di leggere quello che avete scritto prendo atto di essere l'unica al mondo ad aver detestato Castlevania non è piaciuto praticamente nulla soprattutto l'animazione ma ho visto solo la prima stagione e no e non vale così tu te lo devi vedere tutto perché ripeto la prima stagione che ti ha lasciato niente un po' di hype cioè è un morso è veramente un bites non è nulla tu devi vedere la seconda stagione la seconda stagione è clamorosa comunque no 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 devi vedere la seconda stagione esiste ma devi andartela a vedere tanto te la guardi subito promettilo promettilo che te la vedi perché è veramente bella poi ne possiamo parlare è veramente bella io pianto per ben due volte poi vabbè è vero io sono super innamorata di Alucarda ma questa non è che questo non mi faccia guardare la serie in modo obiettivo cerco pure di togliermi i prosciutti dagli occhi dettati dai capelli fluttuanti e biondissimi di Alucarda e pensano pure di rifare dei Twilight Saga è l'argomento scottante l'ha veramente molto molto pericoloso il boy 1 e 2 di Del Toro meritano un sacco è vero è ragione è ragione è assolutamente ragione e invece sono stata molto delusa dal trader di questo nuovo reboot mi ha convinto per nulla ragazzi non mi ha convinto per niente lo trovo molto molto posticcio anche David Arbor come l'hanno messo nel costume poi doveva essere più dark più oscuro a me pare una roba un po' una mezza buffonata spero di sbagliarmi spero veramente di sbagliarmi però non lo so non lo so allora la prima trilogia di Spider di Raimi era di un ottimo livello allora sì se andiamo indietro in effetti in effetti potrei dirvi Batman di Tim Burton indietro nel tempo quando non c'era ancora il termine cinecomic allora qualcosa mi può spiacere un po' di più quello quello sì assolutamente non mi fa leggere il titolo dal cielo abbiamo davvero bisogno dei cinecomic eh sì anche questa è una bella domanda dell'evaction dell'evaction ce l'abbiamo detto dipende dai casi dell'evaction della Disney molto probabilmente non ne abbiamo bisogno perché sono solo degli adattamenti di storie di favole vecchie che per loro vanno svecchiate ma che alla fine rimangono delle copie carbone però macina soldi perché macinano un botto di soldi loro hanno trovato la loro gallina dalle uova d'oro in questo momento non è che non c'è più la creatività semplicemente la creatività non porta i dindini dell'evaction però altro tipo di live action come per esempio Detective Pikachu invece possono avere molto più senso dipende appunto per esempio Alita a me non è dispiaciuto ve l'ho detto il problema di Alita tra l'altro lì è la sceneggiatura perché è un po' troppo abbozzata è un po' troppo rivolta a un target estremamente adolescenziale estremamente giovane però in quel caso si presta Alita per diventare una saga cinematografica non mi è dispiaciuto non mi è dispiaciuto Alita potevano però fare molto molto meglio obiettivamente cioè Alita non gli puoi dire praticamente nulla dal punto di vista tecnico dal lato tecnico dal lato della storia ha diverse carenze e se c'è una cosa invece che non mi è piaciuta molto di Alita e che non ho sentito quasi per nulla la regia di di Robert Rodriguez cioè è palesiamente un film di Cameron non avevamo dubbi insomma Trigger dice i cinecomic attuali stanno perdendo un po' la magia a tanti tanta magia vabbè per non parlare poi dei cinecomic della DC che ve li raccomando io ho paura per Monster Hunter vabbè ma se per questo io ho paura per The Witcher quindi Asylum Style per quanto riguarda Resident Evil 7 assolutamente ah no Asylum Style no per quanto riguarda il film sugli squali sì ma intanto quelli di Asylum Style hanno molto più senso almeno devono far ridere quindi hanno pure rovinato The Meg The Meg mi sono rifiutata di andarla a guardare sarò sincera Ale dice Gabriele è zata con Castlevania mi è piaciuto un sacco ragazzi mi è piaciuto veramente tantissimo promesso lo recupero bravo bravo i capelli di Alucard animati come quelli di Rapunzel ve l'ho detto Funko sta facendo i pop non vedo l'ora che escano perché voglio assolutamente Vlad e Alucard miei miei poi li metto insieme a a Nosfi al conte Orlok c'è Jason Stattelman e non gli fai tirare mano un calcio a scuola da marro esatto ecco quello è per The Meg il reboot di Hellboy sembra una cafonata alla Marvel hai totalmente ragione Hellboy nel periodo Avengers suicidio esatto no si ma infatti sembra una roba del genere in realtà poi ragazzi d'altrere hanno sbagliato mood nel nuovo Hellboy che è tutta che è tutta quella comicità allora esatto secondo me perché voglio essere positiva io voglio dare sempre fiducia ai progetti perché c'è sempre tanto lavoro nei progetti secondo me il problema di quell'evaction per esempio il problema di quel film è che hanno fatto male il trailer il trailer è veramente brutto 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 cioè è stato proprio montato male adesso qualcuno di voi dirà fallite i trailer per carità io sto solo giudicando quello che vedo rispetto ad altri trailer fatti veramente benissimo una banalità il trailer di Frozen è meraviglioso nel nuovo Frozen cioè ti carica proprio ti mette hype il trailer invece di Hellboy secondo me va proprio in bacca cioè è proprio cafone tamarro è troppo comico come dite voi veramente too much too much cos'è tutta questa cosa tutta questa comicità boh non lo so non roba senza senso intanto siamo diventati 300 ma grazie ma grazie ma mi voglio un sacchissimo di bene grazie 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 e poi poi vado avanti che bello prossima live domenica festeggiamo tutti con la birra e live o con un bicchiere di vino tutti però visto che la domenica si fanno chiacchiere la domenica è più chill quindi birra o vino ragazzi e festeggiamo insieme allora il principe nuada di el boy the golden army il top si comunque dice manu comunque si el boy il primo a me sono molto piaciuti quelli del toro veramente tanto non li vedo da un po' qualcuno ha detto sono invecchiati male io li devo rivedere li devo rivedere secondo me no sarò sincera il terzo spider di raimi è orribile sono totalmente d'accordo non parliamo poi della scena in cui toby merguerr fa il balletto a dir poco è imbarazzante pure secondo me il primo rimane il più bello il primo è il secondo il terzo si il terzo è bruttarello è bruttarello forte allora grette dice se leggi fra le righe del titolo in piccolo c'è scritto abbiamo bisogno soprattutto di piene sani dai per Alimta rumors vogliono forse il secondo assolutamente no va bene ragazzi non è che vogliono forse il secondo Alita il progetto Alita nasce con la volontà di farne su una saga cinematografica non è che vogliono vorrebbero no no c'è assolutamente assolutamente vogliono vogliono totalmente farlo perché vogliono che si diventi una saga il trailer di Spider-Man un nuovo universo era per esempio una bomba tra l'altro Spider-Man un nuovo universo ecco incredibile bellissimo felicità immensa tra l'altro per questa vittoria agli Oscar se lo meritava tantissimo sono stata veramente molto molto contenta per 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 Spider-Man ecco quello per esempio un adattamento meraviglioso la poi a livello di animazione siamo veramente veramente al top bene ragazzi sono le nove e mezza direi che per stasera ci fermiamo assolutamente qui grazie per essere stati con me io spero che questa modalità di dialogo e di approfondimento vi piaccia cioè questo tipo di conversazioni vi piacciono sono contenta sinceramente se avete trovato l'argomento interessante e stimolante se ne ho parlato bene soprattutto se vi ritenete abbastanza soddisfatti quindi se vogliamo continuare su questa scia adesso vi farò insomma tra oggi e domani vi metto proprio il sondaggino sul mio canale Twitch così decidiamo se parlare di avevamo detto questione Ridley Scott quindi tutto Iron Prometheus e bla 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 oppure adattamento adattamenti in generale quindi magari sui videogiochi e possiamo parlare pure dei fumetti vediamo poi al massimo ci espandiamo o se fare solo videogiochi quindi intanto vi ricordo noi ci vediamo per le nostre chiacchiere domani e domani scusatemi domenica quindi prossima live domenica se riesco probabilmente vediamo vi faccio questa sorpresa vi avviso sui miei social quindi nel caso una live domani sera giocareccia se riesco appunto a sistemarmi sul computer in quel caso la facciamo un pochino più tardi quindi dopo cena ma per ora l'appuntamento è a domenica grazie per essere state assolutamente con me vi auguro una buona buonissima cena e nulla ciao bimbi grazie a tutti grazie a tutti